carissimi amici argonauti lungo le vie della conoscenza e dello spirito ben ritrovati sul nostro canale su un fuoco sacro un frequentatore della nostra piazza virtuale mi chiede alcune delucidazioni su quello che viene definito viaggio astrale ora è un argomento che in genere per chi conosce la storia e la genesi del nostro canale non ho mai affrontato e non ho mai affrontato fondamentalmente per le seguenti ragioni la prima è che io non amo le definizioni categoriche per quanto concerne le esperienze che vanno oltre una linearità cognitiva per me quello che è importante non è tanto l'arte del meditare tanto l'arte del pregare tanto l'induzione in astrale tanto la contemplazione filosofica quanto piuttosto ciò che riusciamo a trattenere e ciò che fondamentalmente riusciamo da l'accadimento a elevare a livello di esperienza supersostanziale in altri termini e venendo quindi dall'argomento io voi possiamo anche indurci sul piano estrale più o meno consapevolmente più o meno seguendo perseguendo determinate tecniche ma se poi alla fine della fiera perché la fiera finisce sempre non siamo riusciti a trattenere niente di quanto vi è accaduto e soprattutto non riusciamo vuoi tu per ignoranza vuoi tu per picrizia vuoi tu per inoncuranza vuoi tu per ingenuità a traslitterare questi accadimenti in esperienze fondamentalmente tutto ciò è inutile è un qualcosa di fine a se stesso e a me onestamente le cose fine a se stessi non mi accadano tanto comunque cercando di dare una risposta compiuta a questo nostro carissimo amico possiamo fondamentalmente affermare che il viaggio astrale è la di è una denominazione ad un'esperienza estracorporea che è stata coniata ai tempi della new age quindi fondamentalmente in un periodo di tempo a noi molto prossimo ma sarebbe erroneo da parte mia e da parte vostra e da parte di tutti relegarlo a tale epoca ed è per questo poi permettetemi che non mi piace usare questo termine tant'è che noi ritroviamo la narrazione di esperienze estracorporee anche in testi che fondamentalmente sono ben oltre qualsiasi malevolenza o qualsiasi sospetto di pochezza o di fruibilità per menti deboli tant'è per esempio ne parla il filosofo platone che certamente non era sproveduto nel decimo libro della repubblica quando racconta del mito di er ossia di un uomo che viene ucciso sul campo di battaglia ma prima che il suo corpo secondo le usanze secondo le tradizioni venga cremato e gli ritorna e ritorna in vita o forse non era mai morto e riferisce queste esperienze corporee queste esperienze sovra sensibili che lui ha avuto nel suo breve soggiorno nell'aldilà al contempo noi troviamo sempre narrazioni di esperienze estracorporee nella bibbia dove ad esempio ad esempio nella genesi quando ci viene descritta una visione una visio onirica di giacobbe che con la famosa scala ascende verso il cielo questa scala era posta fra cielo e terra ancora ritroviamo la narrazione di esperienze estracorporee all'interno del nuovo testamento quando Paolo San Paolo che è sempre stato un po' in odore di gnosticismo questo qui va detto ebbe a raccontare in una delle sue lettere che conobbe un uomo che lui non sa se in vita se in sogno o in altro modo ebbe a scalare i vari cieli quindi i vari livelli di conoscenza i vari livelli della manifestazione dell'essere ancora ritroviamo la narrazione di esperienze estracorporee in tutta una serie di visio medievali che sono dei libri che narrazione di esperienze uniriche che visio da visione che vi invito fondamentalmente a ricercare ancora poi abbiamo all'interno della cabalà un mistico un cabalista mistico quale Abu Laffia che lui descrive tutta una serie di tecniche legate sia alla permutazione di particolari nomi divini o di particolari parole inside nella Torah associate al canto e alla danza che permettevano fondamentalmente di indursi in particolari stati di meditazione profonda propedeutici a esperienze estracorporee quindi fondamentalmente partendo quindi da questa premessa da questo territorio da questo humus che cos'è che possiamo fondamentalmente asserire il viaggio astrale è l'induzione consapevole di un uomo attraverso determinate tecniche in uno stato di esperienza estracorporea o tradotto dove fondamentalmente i suoi sensi fisici non sono più tali non sono più rivolti ad acquisire nozioni informazioni del mondo quaternario ma sono sostituiti da dei sensi superiori che portano informazioni estraterrene non legate al flusso ordinario spazio-temporale alla nostra mente ovviamente tutto ciò in un quadro di consapevolezza perché viene utilizzata la parola viaggio? beh, semplice perché il viaggio è porsi in cammino verso una destinazione nota o ignota però vi è un atto di volontà l'atto di volontà di porsi in viaggio con tutto quello che comporta una preparazione una qualche forma di organizzazione e anche una qualche forma di orientamento perché definito altresì astrale questo viaggio perché fondamentalmente sta ad indicare il piano su cui questo viaggio si snoda e non è un piano legato al moto degli astri non è un piano legato a spazi siderali o galattici ma è un piano che si pone oltre il corpo materiale oltre il corpo eterico ed è un piano intermedio intermedio fra il corpo fra il piano corporale fra il piano quaternale fra il piano eterico e il mondo spirituale e quindi un piano di mezzo un piano dove abbiamo la discesa di ombre o luce se preferite poste sopra di esso e al contempo l'affioramento di istanze forti violente grossolane di questo nostro mondo ora ci chiede questo nostro amico che cos'è che noi troviamo all'interno del piano astrale questo varia fondamentalmente in base alle varie scuole qualche scuola vi dirà che vi troviamo gli spettri energetici e psichici di questo nostro mondo altre scuole vi diranno che il piano astrale è quel luogo dove possiamo trovare degli spiriti guida cioè delle entità non fisiche che sono considerate delle guide spirituali e protettrici delle persone quindi qualcuno ci potrebbe intravedere l'angelo custode spesso viene detto che queste hanno una qualche connessione speciale con un individuo con il viaggiatore cioè ogni viaggiatore vedrà la propria guida e se adeguatamente approcciate adeguatamente interpellate potranno offrire aiuto conforto saggezza in forma di narrazioni immaginifiche o di particolari parole altri vi diranno che vi possiamo trovare le anime dei defunti che ancora non hanno trovato una possibilità di passare o ad una nuova esistenza o ad un nuovo piano di coscienza chi fondamentalmente è orientato verso questa visione è anche una persona o una scuola che sostanzialmente si riconosce attorno alla medianità alla comunicazione con le anime dei defunti per altre scuole sarà possibile trovare sul piano astrale degli esseri elementali che sono delle entità che rappresentano gli elementi o per meglio dire sono delle entità che rappresentano le intelligenze degli elementi naturali come acqua aria fuoco l'acqua l'aria il fuoco e la terra sono le intelligenze sono i guardiani dei singoli elementi e si e viene detto che potranno essere contattati se si conoscono le adeguate parole e formule di passo altre ancora vederanno che è possibile trovare sul piano astrale delle entità negative queste entità negative potranno essere sostanzialmente ci sono varie classificazioni di due forme o larve o intelligenze e che la loro come dire funzione è quella di per quanto riguarda le larve di depredare l'energia dell'uomo per quanto riguarda invece le altre intelligenze prevaricatrici di assoggettarlo in una qualche forma di dominio atta al perseguimento dell'oroscopio quindi diciamo che fondamentalmente in se vogliamo trovare un punto di caduta per tutta o quanto vi ho appena descritto il punto di caduta è la possibilità di vedere dietro le quinte di vedere chi tira i fili fondamentalmente di ciò che accade sul nostro piano io personalmente perché tanto poi giustamente ogni tanto bisogna anche scoprirsi io personalmente ritengo che sul così del cosiddetto piano astrale noi vediamo quanto siamo in grado di vedere è un po' come su questo piano io mi muovo ad una certa velocità perché sono abituato ad andare tutti i giorni a correre oppure io mi riesco a scalare una montagna e ho una determinata visuale maggiore rispetto alla persona che invece è infossata stessa cosa sul piano astrale maggiore è la mia sensibilità maggiore sono le mie capacità maggiore è la mia dinamica percettiva e maggiori saranno gli accadimenti saranno gli enti che io potrò con cui io potrò fondamentalmente entrare in contatto al contempo se proprio fondamentalmente ve la devo dire tutta io al posto di viaggio astrale che mi lascia sempre un attimino come dire un po' di brividi addosso per tutto quello che vi è associato dalle varie scuole preferisco parlare di viaggio interiore dove fondamentalmente l'uomo attraverso particolari tecniche riesce ad da un lato a silenziare la mente da un lato l'anima concupiscente quindi le emozioni e quant'altro dall'altro di silenziare questa vecchia ciabatta che la mente è razionale lasciata a se stessa fare assurgere fare emergere tutta una serie di pensieri ed immagini e narrazioni che provengano dalla propria interiorità e attraverso di esse fondamentalmente procedere nell'altro compito della ricerca interiore quindi diciamo che se proprio devo in qualche modo alzare il velo io personalmente sono molto interessato piuttosto a vedere che cosa fa il mio la mia vicina di casa a vedere quelli che sono fra virgolette i miei angeli i miei demoni i miei mustri interiori cioè le forme e le sembianze che assumano i miei aggregati psicologici sono un piano psichico questo è e fondamentalmente lavorarci lavorare su di loro mi chiedeva l'amico quale potrebbero essere le tecniche beh le tecniche amici miei sono svariate e non ve le devo certamente stare a qui io a delincare ci sarà colui che fondamentalmente sarà più propenso a ricorrere a pratiche legate a suoni legate a mantra attraverso la giusta vocalizzazione di queste parole si creano determinati stati di coscienza ci saranno persone che invece saranno molto più propense a utilizzare invece particolari immagini particolari segni particolari sigilli che in qualche modo saranno continuamente ripercorsi riproposti dal proprio pensiero altri ancora che fondamentalmente hanno acquisito tutta una serie di tecniche tipo il guardarsi le mani il saltellino e via discorrendo per svegliarsi all'interno del sogno ancora ci saranno persone che fondamentalmente si si indurre troveranno il modo di indursi italiano lingua maledettamente difficile in uno stato di percezione estracorporea attraverso delle pratiche meditative e fondamentalmente io vi posso assicurare che la via fondamentalmente migliore è quella che sa coniugare tutte queste tecniche amici miei infatti se noi riusciamo fondamentalmente ad imprimere una geometrica progressione al nostro respiro e su di esso fondamentalmente calibrare attraverso determinate parole o determinate litanie la nostra mente vedremo che anche il nostro cuore si acquiterà e fondamentalmente avremo modo poco a poco di indurci in uno stato di vigile consapevolezza rivolta fondamentalmente non a quello che è il nostro mondo circostante ma rivolta invece a quello che è la nostra interiorità e badabum badabam si alza il separo carissimi amici spero che il dialogo odierno vi abbia interessato vi invito ovviamente a sottoscrivere il canale perché altrimenti non andrete in astrale a presto ritrovarci